30 manifesti sparsi sul territorio cittadino di Arezzo che raccontano situazioni di povertà, disagio, luoghi abbandonati e degradati. È il progetto Vite Sparse, frutto di un'idea del fotografo Massimo Soletti. Le immagini sono state anche appositamente posizionate all'interno di un percorso che anche esso va a toccare luoghi che già sono in degrado o in difficoltà, come può essere l'area dei Porcinai. Non per provocare, ma per riproporre il problema, quindi le condizioni di queste vite da un altro punto di vista, quello della scarsità, della mancanza delle condizioni che rendono a tutti noi una vita normale. Un racconto attraverso cartelloni pubblicitari nei quali è possibile imbattersi camminando guidando per la città, che ha l'ambizione di avviare una profonda riflessione sulle politiche abitative e sociali. L'ultimo rapporto diocesano della Caritas sulle povertà ci parla tra i 2.120 utenti che si sono interfacciati appunto con l'ente, se classificati a seconda delle condizioni abitative del 10% di questi che risultano oggi senza alloggio oppure che abitano in ex capannoni o magazzini, che occupano case abbandonate, che dormono in tende, auto, treni e altre soluzioni di fortuna. Un dato che purtroppo sempre dai dati del ultimo rapporto della Caritas è in crescita. Come associazione chiediamo all'amministrazione comunale di destinare più fondi all'assistenza sociale, interventi concreti che vadano incontro alle esigenze di sempre più persone. Pensiamo opportuno ridurre la spesa in interventi e progetti di monitoraggio, attività già svolta da numerosi enti di volontariato in premis la Caritas diocesana. Quindi una maggior sinergia, un maggior confronto con tali realtà permetterebbe di liberare risorse da destinare ad interventi di assistenza diretta come il potenziamento del dormitorio, l'ampliamento dell'apertura da ottobre a maggio come minimo e il rinserimento sociale dei fruitori dello stesso servizio. Il percorso troverà il suo compimento in un convegno che sarà dedicato ai temi della corretta comunicazione sociale al tempo dei social network, in programma per il prossimo 24 giugno presso il Palazzo Fossombroni in piazza San Domenico.